La comunità LGBTQ plus dell'Irpinia ha celebrato un evento senza precedenti, l'Irpinia Pride. L'obiettivo era chiaro, mettere in mostra la propria identità, combattere l'omofobia e la discriminazione, nonché promuovere un messaggio di amore, accettazione ed uguaglianza. L'evento si è animato dalla successiva Piazza Libertà d'Avellino, da cui una fiumana di colori e d'orgoglio ha attraversato il corso principale della città, per la soddisfazione di Antonio De Padova, presidente di Apple Pie Avellino. Sono stanchissimo, probabilmente si vede la faccia, sono esaurito al 100%, però non vedevo l'ora che arrivasse questa giornata, ci stiamo lavorando da febbraio. È fondamentale perché noi riceviamo, diciamo, un giorno sì, un giorno no, una richiesta di aiuto da parte comunque di persone che non riescono a fare coming out in famiglia, oppure l'hanno fatto e non vengono accettati, vengono messi fuori da casa. E noi, come realtà eco associativa, cerchiamo di stare sempre accanto a loro. Oltre ad essere una festa di celebrazione, l'Irpinia Pride ha offerto anche dei momenti di riflessione, ricordando l'importanza di perseguire una società più inclusiva e rispettosa delle differenze. Due madrine ed altrettanti padrini per l'evento che ha riunito centinaia di persone. Per me è una bellissima emozione, partire da casa è sempre bello, fare il Pride a Milano a Roma è più facile di farlo ad Avellino, quindi sono felicissima di essere qua oggi. La testimonianza è sempre importante e soprattutto quando si parla di diritti, di eguaglianza e di non discriminazione, troppi episodi in giro di discriminazione e di violenza, quindi la testimonianza in questo caso è basilare. Non bisogna mai dimenticare che noi innanzitutto prima di avere i diritti siamo degli esseri umani, siamo cittadini italiani come tutti gli italiani e mi sembra strano che debba essere ancora qui a dirlo e a ricordarlo, veramente la trovo una cosa strana. Però quest'anno noi nemmeno a farlo opposto ci troviamo a Piazza della Libertà, ancora una volta per gridare alla libertà. Sara tu che dici? Chiudo, è turbata la... No, no, hai fatto lui la domanda. Sara tu che dici? Io cosa dico? No, dico che assolutamente, come dicevano i nostri padrini, ecco, scusatemi, io sono un po' emozionata, non sono abituatissima a queste cose. Ok, grazie, grazie, eh sì, c'è questa cosa, loro mi tengono, mi terranno in piedi per tutto il percorso e quindi sì, dobbiamo gridare all'uguaglianza, ai diritti, perché comunque è assurdo che siamo nel 2023 e ancora c'è gente che non riconosce che siamo persone, siamo esseri umani.